Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd Oh la la, oh la la, oh la la, che puntatona questa quarta di Moon Knight Mi è piaciuta un sacco, un sacco, mi è piaciuta veramente tantissimo Scopriamo quanto in questa recensione analisi o meglio video del lirio del giovedì mattina Parlando di che cosa è successo e di che cosa succederà Perché già quello che è successo è what the, e quello che succederà lo sarà ancora di più Sapete, ovviamente ci saranno un sacco di spoiler, perciò be prepared Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, è vero e iscrivetevi al canale YouTube di Cosmopolinerd Che è il canale su Tassino, iscriviti e attivando la campanella di notifiche anche su cellulare Che è sempre una cosa importantissima E se volete supportarmi, oltre che sopportarmi, trovate un sacco di modi meravigliosi in descrizione a questo video Come la fantastica piattaforma Ko-fi, la mia wishlist Amazon Se volete farmi un regalo, andate a vedere che cosa vi garantisce il mio codice personale Cosmo su Pampling Sito di magliette e articoli nerd, non resterete delusi, oh no Bene, ciancio alle bande e sigla Allora, 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 che cosa è successo in questo quarto episodio di Moon Knight? La serie Marvel Studios su Disney Plus che ci racconta le avventure delle caballero luna Per dirla alla spagnuola Che cosa è successo? È successo un sacco di roba, un sacco di roba figa A cominciare dai toni un po' diversi rispetto ai precedenti tre episodi che abbiamo visto Un toni alla Indiana Jones che incontra la mummia Che incontra un Mark Spector senza poteri Perché ricordiamoci che Konshu, la divinità della luna, appunto è stata imprigionata dai suoi amici dei egizi Alla fine del terzo episodio, è stata imprigionata in quella statuetta dalla quale non si può liberare da solo Bensì ha bisogno dell'aiuto di Mark Spector, Stephen Grant, insomma il suo ex avatar ormai Ed è molto interessante il fatto che abbiano scelto di non liberare subito Konshu Perché io avevo il terrore, il terrore, come vi avevo detto nel video delirio relativo allo scorso episodio Che potete trovare qua sopra Che velocizzassero il tutto in 4 e 4-8 Visto che Mark aveva bisogno di trasformarsi in Moon Knight Perché ora come ora non ha più la forza Wattah, la capacità di fare i salti Wattah La possibilità di guarirsi Wattah, eccetera Non essendo più l'avatar di una divinità Visto che c'è una minaccia divina all'orizzonte Ovvero la liberazione di Ammit Avendo bisogno dei suoi superpoteri Liberasse entro la fine del quarto episodio Konshu Rendendo il suo imprigionamento qualcosa per allungare il brodo di un episodio e basta Invece no, e invece no Sono proprio, proprio, proprio contenta Perché, insomma, non servono i superpoteri al protagonista Per realizzare qualcosa di figo sul piccolo o più grande schermo Ecco, quindi sì, sono molto soddisfatta da questo punto di vista Sono molto soddisfatta dal vedere Leila in modalità donna avventura Ma donna avventura, non ironicamente parlando, ma seriamente Fa dei salti, robe così Combatte contro questo stregone dell'antico Egitto Vivo, con tutte le virgolette del caso Insomma, fa delle robe fighe Leila Sembra un personaggio che pian piano si sta rivelando sempre più interessante Come è doveva nascere Prima o poi, ma ne avevamo già parlato in precedenza Non so se vi ricordate Il triangolo amoroso tra Leila Mark Spector e Steven Grant Mark Spector che è il quasi ex marito di Leila Quello vero E Steven Grant è la personalità di Mark Spector Credo, perché anche qui non si è ancora capito Se è andato prima l'uovo o la gallina Ma credo sia andato prima Mark Spector E poi a causa di un trauma La sua psiche si sia frazionata in Non si sa quante personalità Dicevo, Steven Grant sembra una personalità Proprio creata da Mark Spector Per piacere alla moglie Leila Ha la caratteristica della sincerità Invece Mark Spector racconta solo bugie Nasconde le cose o parziali verità È gentile, tutto ciò che Mark Spector non è E di cui Leila ha bisogno Infatti scatta il limoncello Ma infatti doveva scattare il limoncello Lei era lì che lo annusava Dicendo, è lo stesso odore di Mark Spector E c'è credo, è lo stesso corpo Poi stava lì a strufugnargli l'imbracatura Per calarsi nella tomba dell'antico Egitto Stava a strufugnarli proprio lì Cioè, oh Era ovvio che almeno un limoncello scattasse Non mi fate essere troppo birichina Che dobbiamo ancora entrare nel vivo Non dell'essere birichini Intanto del video delirio Oh boh, quindi scatta il limone Un triangolo che ci sta Che assolutamente era prevedibile Ma prevedibile in senso buono E che a me diverte Perché comunque il fatto che due personalità all'interno di uno stesso corpo Siano entrambi innamorati della stessa donna Mi fa ridere Mi fa ridere teneramente Ecco poi Si comincia a fare un po' di chiarezza Riguardo certe robe buttate lì nel corso degli scorsi episodi Allora, per esempio La morte del papà di Leila Che sembra connessa appunto a Mark Spector Finalmente si chiariscono a riguardo Dopo che Harrow, il cattivo Racconta ciò che ha percepito Nella mente di Mark Spector Perché Mark era presente Nell'istante in cui il padre di Leila E i suoi colleghi allo scavo I suoi colleghi archeologi Sono stati giustiziati Dal collega mercenario dello stesso Mark Mark che si è opposto Opposto non a sufficienza evidentemente Perché il caro collega mercenario Ha deciso di uccidere anche lui Ed è quello il momento in cui sarebbe dovuto morire Ma è stato proprio resuscitato Tra virgolette da Conshu Questa cosa è interessante Perché ci dà una connotazione temporale All'inizio del terzo episodio Leila ritorna in Egitto E c'è quella Shura che le fa i documenti Che dice Oh sono dieci anni che non ci torni Io Ecco dieci anni Quindi vuol dire Lei non ci sarà più tornata in Egitto Dalla morte del padre Quindi il padre è stato ucciso dieci anni prima Perciò mi volete dire Che Mark Spector È Moon Knight Il pugno vendicatore di Conshu Da dieci anni Quindi la mente di Mark Spector Si è frazionata dieci anni prima Quando è stato riportato in vita da Conshu Oppure lo era già prima Fatto sa che comunque Leila Ha conosciuto Mark Spector Dopo che è stato resuscitato da Conshu Perché Mark Spector è andato a cercare Leila Forse all'inizio per scusarsi E poi è nato una sorta di amore tra di loro Quindi questo riferimento temporale Dieci anni Ok Supponendo che appunto abbia cominciato ad avere personalità multiple Quando è stato riportato in vita da Conshu Cos'è che è cambiato Adesso rispetto agli ultimi dieci anni In cui riusciva a tenere tutto sotto controllo Perché adesso non ci riesce più Questa cosa non ci è ancora stata spiegata E ci verrà spiegata spero In una delle due prossime puntate Perché ne restano soltanto due Appunto Poi un'altra cosa figa Che però purtroppo è meno figa di quanto avrei voluto Per quanto sia figa a prescindere L'avatar che ha tradito Ammit E che ha confabulato con le altre divinità egizie Per imprigionarla Non è Ramatut Quindi non è la versione faraone di Kang No purtroppo no È Alessandro Magno Cioè comunque Non pizza e fichi Un personaggino che nella storia È stato un pelo pelo determinante Tuttavia io posso ritenermi soddisfatta Perché nello scorso episodio Nel terzo è apparso Ramatut Perché vi ricordate no All'inizio di questi video deliri vi dicevo Vedrete che ci sarà Ramatut È impossibile che si lasciino scappare l'occasione di raffigurarlo Un Kang in versione antico egitto E c'è sulla giacca di jeans di uno dei ragazzi egiziani Che affrontano e vengono affrontati da Mark Spector C'è un disegno colorato di verde e viola Che sono i colori distintivi di Kang E il copricapo antico egiziante Che vedete su questa giacca È esattamente lo stesso copricapo Che ha in testa Ramatut nei fumetti Un vasino al contrario sostanzialmente Ma ci sono ben tre robe di cui dobbiamo parlare adesso Una me la dovete spiegare voi E due cerco di spiegarvele io più o meno Allora c'è un oggetto per terra In una delle tende dell'accampamento al di fuori Del luogo dove è stata imprigionata Ammit Che sembra, non lo so, un coltellino, un qualcosa E sembra insanguinato Diciamo Leila e Mark Spector Vabbè Steven, Grant Stanno cercando robe Stanno cercando attrezzatura Per calarsi nella tomba antica E appunto impedire la liberazione di Ammit Ma la telecamera si sofferma Su questo aggeggino tagliente Che sembra ricoperto di sangue Attorno ci sono delle macchiette E sangue Ecco, secondo voi che cos'è? Che cosa mi sta a significare? Che precedentemente c'è stata violenza? Insomma, quel dettaglio lì mi ha incuriosito Ma non ho trovato alcuna spiegazione a riguardo Se sapete spiegarmi perché, per cosa e per come Per piacere ditemelo nei commenti Ma un'altra roba che mi ha super incuriosito E' stata proprio la scena iniziale Vediamo colui che nel terzo episodio Ci è stato raccontato come l'avatar di Osiride La divinità egizia mummia Diciamo così Perché il fratello Seth L'aveva fatto a pezzi E l'aveva distribuito in tutto l'Egitto Insomma, mitologia narra Ecco, lo vediamo ripreso al contrario Normalmente questo è un modo per raccontarci Che quello che pensiamo essere vero In realtà è all'opposto E infatti vediamo lui appoggiare La statuetta in cui è stato rinchiuso Conshu All'interno di una piccola nicchia E poi scopriamo non appena l'inquadratura si allarga Che ci sono un sacco di altre nicchie Con un sacco di altre divinità Non conshu Altre divinità Chiaramente egizie Rinchiuse E le ho contate Queste nicchie Sono tipo dieci Dieci Ma le divinità egizie Sono nove L'enneade avete presente? No, l'enneade vuol dire Che ci sono nove divinità egizie In realtà il pantheon egizio è molto più nutrito Però si è deciso di trovarne nove principali E quindi di raccontare all'interno di Moon Knight Questa enneade Mi è venuta un'idea Perché è strano Che ci abbiano fatto notare questa cosa Perché ok Che anche nella riunione Nello scorso episodio Erano tipo solo cinque presenti di nove Non erano nove dei Cinque più Conshu sei Che però era stato esiliato Ma lui faceva parte dell'enneade sin dall'inizio Oppure no È una divinità super guatta Oppure è una divinità minore Insomma Non è molto chiaro tutto ciò Fatto sta che ci sono un sacco Di altri Dei egizi Che sono stati rinchiusi Nelle loro statuette E se Quegli avatar umani lì Che abbiamo visto nello scorso episodio Non fossero controllati Dalle divinità egizie Ma bensì da Ammit In un modo o nell'altro O Uno a sola divinità egizia Che è in combutta Con Ammit Che dà potere Ad Arthur Arrow E anche Agli avatar Perché ricordiamoci Il presunto avatar di Osiride Nel momento in cui Deve compiere una magia Su Il corpo di Mark Spector Utilizza una magia Bianca Di colore bianco Ma poi Tutti gli avatar I cinque avatar Che abbiamo conosciuto Quando sono lì a fare L'incantesimo Per rinchiudere Conscio nella statuetta Lì la magia È di colore Viola E ci ricordiamo Nel secondo episodio In cui Arthur Arrow Fa un incantesimo Insomma col bastone Si apre questa voragine Magica Di colore Viola E ne esce fuori Un mostro Cattivissimo Sciacalloso Wattah Ecco Questo particolare Il colore della magia Normalmente è abbastanza importante All'interno del Marvel Cinematic Universe E mi sembra un po' Una coincidenza importante Anche l'inquadratura Che è girata E poi torna Diciamo Corretta No? In un certo senso Questo ribaltamento Secondo me ci sta a significare Che dietro a questi avatar umani C'è qualcosa di più E poi L'altra grande domandona L'altra grande domandona Enorme Riguardo il finale Di questo episodio Finale di questo episodio Che io non mi sarei mai aspettata Nella vita E quindi Muy 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 bien Allora praticamente Troviamo Mark Spector Dopo essere Stato Ammazzato Sparato Con due colpi di pistola Da Arthur Arrow Ed essere Finito in una pozzetta D'acqua Stagnante Da millenni Ecco Evviva l'igiene Ma ormai è morto Quindi non credo Si ponga più questo problema Almeno finora Almeno forse Almeno secondo quello Che ci hanno fatto intuire Ecco Si ritrova All'interno Di questo ospedale Psichiatrico E lui è un paziente Come sono pazienti O inservienti Molti di coloro Che abbiamo visto Nei precedenti episodi Beh A parte lo stesso Mark Spector C'è Leila Come altra paziente Come altra paziente C'è Donna La sua capa Al British Museum Poi c'è Crowley Ovvero L'uomo stato adorato E poi ci sono i due poliziotti Che lo arrestano Nel secondo episodio Che sono i due inservienti L'uomo e la donna C'è Arthur Arrow Che fa il dottore Finalmente il dottore Perché effettivamente Nei fumetti È un dottore Di qualche tipo Ecco Quindi qua fa Il terapeuta Lo psicologo Psichiatra Insomma Lui Che cerca di curare Di tirar fuori I problemi Dal povero Mark Insomma È una situazione Ai confini Della realtà Letteralmente E vediamo Tante cose Tanti dettagli Degli scorsi episodi Delle finora Avventure Di Mark Spector E Stephen Grant Raffigurate In un modo Un po' strano Come se Vedendole All'interno Della struttura Psichiatrica Mark Spector Avesse potuto Immaginare Una vita alternativa Che in realtà Non è la vita vera Anche se in realtà Si svela subito Che quella Dell'ospedale Psichiatrico Non è la vera Realtà Della storia Tuttavia Un momento Ci viene da dire E se E se E se Davvero Arthur Harrow Fosse stato sempre Il dottore Che ha gli stessi Sandali Del cattivo Wattah Avatar di Ammit Il bastone E poi si vede Il paesino Sulle Alpi Che abbiamo scoperto Nel primo episodio Raffigurato In un quadretto Nello studio Di Arthur Harrow Poi Mark Spector Ha in mano Un pupazzetto Di Moon Knight È legato Con una cavigliera Alla sedia a rotelle Esattamente come si lega Con una cavigliera A letto Per non sonnambulare In giro Poi c'è un pesce rosso Finto Credo All'interno Di una boccia Sempre lì All'interno Dell'ospedale Psichiatrico Poi c'è questa Questa cassetta Tomb Buster O meglio Tomb Buster Che racconta Le avventure Di questo Stephen Grant Alla ricerca Di questa divinità Lunare Insomma Quella non è la realtà No Mark Spector È davvero Chi pensiamo sia Stephen Grant È davvero Una delle sue Personalità E L'ippopotama Che vediamo Alla fine Dell'episodio È davvero Chi pensiamo Sia Sì Una divinità Egizia Perché Adesso Cerchiamo di trovare Un po' di senso A tutto ciò Cercando di capire Che cosa succederà Nei prossimi episodi O almeno Qual è La spiegazione Vera e propria Di questi ultimi Dieci minuti Di episodio Ecco Bisogna attingere Ai fumetti E bisogna attingere Alla mitologia Egizia Cosa molto figa Effettivamente Da fare Allora Diciamogelo Quando Stephen Grant Viene liberato Dal sarcofago All'interno Della struttura Psichiatrica Ovviamente Da Mark Spector Diventa chiaro Che l'altro Sarcofago In cui c'è qualcuno Dentro Che tenta di uscire Contenga la terza Personalità Di Mark Spector Ovvero Jake Lockley Quello che fa Insomma Robe violente What a Come nello scorso Episodio Che pugnala Quei ragazzi Egiziani Con Mark Spector E Stephen Grant Che si dicono Ma l'hai fatto tu L'hai fatto tu Oh ma sei Un carnefice Oh no Io non sono stato Ecco Quindi c'è per forza Jake Lockley Che non hanno Ancora liberato Ecco Quindi Ci sono dei richiami Molto molto potenti A una run Di Moon Knight Quella scritta Da Jeff Lemire Lemire E scritto Lemire Ecco Io li leggo sempre Questi cognomi Non mi pongo mai Il problema Di come si pronunciano Abbiate pazienza In cui appunto Mark Spector Si risveglia Di punto in bianco Letteralmente All'interno di una struttura Psichiatrica Dove ci sono Personaggi Che lui ha incontrato Nella sua vita vera O meglio Quella che pensava Fosse Essere La vita vera All'interno Della struttura Psichiatrica Pensate che La dottoressa Che gli fa Le sedute È la stessa De Ammit Qua è il suo avatar Arthur Arrow Quindi alla fine Torna a tutto No se ci pensate Ecco Quindi Questo è un riferimento Fumettistico Decisamente Importante Chiaro Io ve la butto lì Questa cosa Ma io non ci credo Più di tanto Ovvero che la realtà Dell'ospedale psichiatrico Sia un qualcosa Creato da Ammit O qualcosa Creato da Arthur Arrow Non credo Arthur Arrow Abbia le capacità Di creare Un'illusione Simile Secondo me Stando chiaramente Anche ai fumetti Quello È l'overvoid O meglio Celestia Leliopolis Ve ne ho parlato meglio Nel video delirio Che potete trovare Qua sopra E quindi Tutto questo Va ulteriormente A confermare Le mie teorie Sto parlando Della dimensione Dell'universo Del Marvel Cinematic Universe In cui Stanno Le divinità Egizie Esattamente come Asgard Che è una dimensione Dell'universo Del Marvel Cinematic Universe In cui stanno Le divinità Asgardiane Nel secondo numero Della round fumettistica A cui sto facendo Il riferimento C'è un momento Ben preciso In cui Mark Spector Sta subendo L'Elettroshock E si ritrova A parlare Nel proprio Subconscio Se possiamo Dire così Con Consciu E Mark Spector Gli chiede Ma scusa Ma Consciu Ma dove sono Che fine ho fatto E Consciu Gli dice Sei sopra Un vessel Un vascello Una nave Un qualcosa Che tu potresti Comprendere meglio Se io lo definissi Tipo Un'astronave Anche se in realtà Non è proprio Un'astronave Sei all'interno Dell'overvoid Ovvero Quella dimensione In cui Stiamo Noi Divinità egizie Noi E quelli Della mia specie Quindi Celestial Eliopolis E noi Stiamo qua Siamo costretti A stare qua E non possiamo Interferire Con la dimensione Tua No La terra Ecco E quindi Mi ha fatto pensare Ricordare L'utilizzo Di questa parola Ben precisa Vessel Che tra i tanti Suoi significati Può avere anche Quello diciamo Principale Di imbarcazione Vascello Nave Barca E che cosa succede Dopo che Mark Spector Sfugge Alla seduta Con il dottor Arrow E si ritrova Nel corridoio Della struttura Psichiatrica Si vedono I lampadari Le luci Inclinarsi Tutte da un lato E anche i carrelli Finire da quel lato Come se fosse Una barca Una barca Che si imbarca Per le onde No E per quanto Lui Non segua Lo stesso movimento Fisico Se così lo possiamo Chiamare Forse per non dare Troppo l'idea Di oh Stiamo copiando Inception Paro paro Ecco Tuttavia Gli oggetti Attorno a lui Subiscono Questo spostamento E a me Ha fatto troppo Venire in mente Una nave Quindi Vessel Quindi Si E' un luogo All'interno Della dimensione Celestial Heliopolis Ovvero Dove stanno Le divinità Egizie Infatti Il fatto che Vediamo Alla fine Proprio La divinità Ippopotama Di cui adesso Parliamo un po' più Nello specifico Ci mancherebbe altro Va a supportare Il mio pensiero Quindi Lui è morto E' morto E la sua E la sua Anima Possiamo definirla Così Che ne dite Il suo spirito La sua essenza Si è trasferita In celestial Heliopolis Quella lì E' l'anima Lo spirito La psiche L'essenza Di Mark Spector Con tutte le sue Personalità Trasferita in un altro Piano dimensionale In un'altra Tipologia Di realtà Perché Se ci fate caso Il dottor Arrow Durante la seduta Gli dice Noi non viviamo In un mondo Materiale Materico Noi viviamo In un mondo Psichico E gli fa tutto Il discorso Della penna No? Cioè le cose Sono in base Alla prospettiva Non è che sono E basta Cioè la penna Per me è uno strumento Per scrivere Invece per il mio cane E' un gioco Da Da mordicchiare E sono vere Entrambe le cose Quindi si trova In un altro piano Dell'esistenza Ovvero Quello In cui sono Imprigionati Per scelta Oppure no Tutti Gli dèi Egizi E vediamo La lippopotamessa Per un motivo Perché lei Si chiama Taueret O Tueret Ed è molto Rivelatorio Il fatto Che abbiano scelto Proprio lei Da mettere All'interno Di un ospedale Psichiatrico Ma comunque Di un ospedale Chi ha letto Come me La trilogia Di Rick Riordan Ovvero L'autore di Percy Jackson The Kane Chronicles Che racconta Appunto Le vicende Di Divinità egizie L'ha già incontrata Taueret La divinità Ippopotamessa Che gestisce Una struttura Sanitaria Diciamo così Per non fare Spoiler Perché All'interno Della mitologia Egizia Questa divinità Era molto Legata Alla nascita Anche All'essere Madre Infatti Era costantemente Incinta E poi Anche Alla fertilità In generale Ma anche Alla rinascita Dopo La morte Ruolo Che le permetteva Tra l'altro Di accompagnare Il neo defunto Verso la vita Nell'aldilà Ma un'altra cosa Interessante Riguardo Taueret Taueret L'ippopotama Meravigliosa Che è già super dolcina Mi piace Mi piace tantissimo Ecco Il fatto Che venisse Accostata In quanto Ippopotamo All'acqua Venisse chiamata La signora Dell'acqua pura L'acqua Che purifica Colui Che è appena Morto E quindi Lo rende degno Dell'aldilà E il fatto Che Mark Spector Venga risucchiato Dall'acqua Prima di ritrovarsi All'interno Dell'ospedale Psichiatrico Secondo me È tutto Decisamente Legato Ci sono Tante cose Che potrebbero Andare a supportare La mia teoria Ovvero Che siamo In una sorta Di al di là Ovvero Celeste All'Eliopolis Dove ci sono Le divinità Perché lei È una divinità E non siamo In un piano Fisico Bensì In un piano Psichico Tutto il discorso Del vessel Il fatto Che sembra Di essere In una nave Insomma Io ci credo Tantissimo Poi sicuramente Non sarà così Ma io ci credo Veramente Veramente tanto E mi piace Un sacco Tra l'altro Quindi in un certo senso Mark Spector Libererà Conshu Ma liberando Conshu Aiuterà anche Le altre divinità Egizie Ad essere libere E quindi potranno fare Quello che poi vorranno Anche fisicamente Da quel momento Lì in poi Non avranno bisogno Di avatar Sempre che quelli Che abbiamo visto Siano veri e propri avatar Delle divinità Oppure no Credo che faranno Molta luce A riguardo Nel prossimo episodio Tra l'altro divinità Simpaticissime Che noi Conosceremo E che Gor Il macellatore Di dei Il cattivo Di Thor Love and Thunder Farò fuori Durante Thor Love and Thunder Ecco perché secondo me Qualche dio egizio Lo uccide Perché ce li stanno Introducendo apposta Per trovare Qualche altra Vittima potenziale Al buon Gor Il macellatore Di dei In Thor Love and Thunder Appunto Quindi Questa è la mia Iper mega teoria Super complessa Spero che non vi siano fumate Le orecchie Scusate Comunque E che dire Dopo questo quarto episodio Moon Knight Mi intrippa Sempre di più Davvero Sempre di più E non vedo l'ora Di scoprire Come andrà a finire Perché Cioè Dopo questo quarto episodio Veramente Non so quasi più Cosa aspettarmi In realtà sì Ma anche no Sono sicura Che riuscirà a sorprendermi E che tutte le mie teorie Tutti i miei deliri Saranno da riaggiornare Di video delirio In video delirio Fino alla fine Ah che poi mancano Solo due puntate No Vorrei che ce ne fossero Molte di più E voi? Se questo video vi è piaciuto Come è piaciuto A tutti Allora dovete fare sempre Le solite cose Vero mettere mi piace Lasciare un commento Iscrivervi al canale YouTube di Cosmo Palide Attivando anche la campagna Le notifiche Ovunque essa sia Che è sempre una cosa Importantissima Altrimenti Non lo so Non lo so Sono rimasta Senza parole È possibile? È possibile Che è possibile?